ben ritrovati a tutti cose mai viste mai viste prima oggi ve le facciamo vedere noi siamo a metà strada lungo il lungo lungo il lungo ponte lungo il lungo ponte che va da reggio emilia a lisbona parliamo di calcio applicato di calcio visto di spunti tecnico tattici ovviamente veniamo da una brutta sconfitta contro il sassuolo seconda consecutiva in campionato nel mezzo c'era stato lo sporting abbiamo vinto di misura gara controversa e poi giovedì si andrà a cercare di passare il turno verso le semifinali Europa League non sarà semplice ma partiamo comunque con un vantaggio a gestire chi meglio dei nostri mister e allora caro my bloody juventon caro mauro caro heart handle c'è bar c'è kevin c'è luca uber nord serial ci sono quasi tutti siete ancora un po in pochi eh quindi ragazzi ditelo nei vostri gruppi venite il link è comodo twitch.tv slash juventibus e siete già a seguire la diretta vi comunico ufficialmente lo dirò tre quattro volte nell'arco di queste due ore e mezza tre qui staremo insieme perché c'era uno speciale approfondimento incredibile dai quattordici abbiamo ufficialmente recuperato no non sto parlando di decidio il canale youtube ufficiale di juventibus quindi attenzione il canale ufficiale youtube di juventibus abbiamo avuto fede nuovamente disponibile stiamo mettendo tutto a posto ma è una bella notizia anche in vista di giovedì abbiamo buone notizie spero anche poi da francesco e da orfeo che saluto mister zenzola con noi che grande è la grande mente di questo format ciao mister ciao luca ciao mister buon pomeriggio a tutti ho caricato ciao ciao saluto a tutti voi ciao orfeo zanforlino a tutti voi ciao ciao grazie fratelli beato chi non capisce un puntini puntini non c'è no non c'è non c'è scritto nulla gianni juventino insomma come vuoi andare come vuoi andare eh in ordine cronologico dobbiamo riuscire mister zenzola a a leggere dentro queste queste slide queste considerazioni che tu ci fai anche qualcosa già in vista di giovedì come considerazioni poi il toto formazione un attimo presto abbiamo qualcosa magari da poter dire però insomma riusciamo oppure veramente sono due categorie stagne quella di domenica scorsa e quelle giovedì prossimo eh luca io credo che se mettessimo in campo giovedì quello che abbiamo visto domenica l'eliminazione sarebbe sicura sicura eh io credo che 100% eliminati quindi categorie stagne dai meglio categorie stagne ti dico in nei 54 mila 55 adesso non ricordo esattamente quando sono entrati quadrado e di maria assieme ma fino a quel momento lì io ho visto una juve veramente indecente e e ho cercato non ho messo in fila in ordine cronologico ho messo in fila per argomenti ah oggi andiamo per argomenti sì c'è un primo tempo e poi un secondo tempo nel primo tempo ho visto ripetuti gli errori che già avevamo visto nelle partite precedenti magari in maniera meno frequente però eh comunque li avevamo visti questa volta veramente per 55 minuti ho visto tante cose veramente veramente brutte dal punto di vista eh calcistico dal punto di vista tattico dal punto di vista del gioco dal punto di vista dell'impegno delle idee cioè veramente riesco a salvare poco quindi per categorie oggi andiamo per categorie anche nell'analizzare le slide e non come facciamo insomma una fotografia poi ci interrompiamo nel mezzo a fare considerazioni generali ma seguiamo magari il corso della partita non faremo così oggi no no poi c'è un secondo tempo in cui parleremo di altro però eh soprattutto saremo concentrati sui primi 55 minuti praticamente eh io individuo l'ingresso di di Maria Quadrado la svolta cioè la io è cambiata leggermente con l'ingresso di di Maria Quadrado ma prima è stata una cosa una cosa brutta e devo dire a qualcuno che già lo sta scrivendo in chat che purtroppo l'ho vista due volte e quindi credo di meritarmi qualcosa un premio non lo so io non ce l'avrei ma guarda io ce l'ho io ce l'ho è la maglietta di abbiamo fede perché più fede di così eh non si può anzi facciamo anche già che andare a creare lo sfondo giusto di sì di bizzona eh visto che siamo qua guarda mettiamo anche il loghino siamo quasi pronti la maglietta giusta per te esiste ed è quella di abbiamo fede direi che non c'è non ci sono dubbi su questo siamo d'accordo no? Beh io non ce l'avrei sì siamo d'accordo però a differenza di Francesco io non ce l'avrei fatta a vederle due volte a vederla due volte tant'è che ti dirò eh già con la Lazio ad un certo punto volevo mollare il colpo un sentimento che non avevo mai provato ho detto vabbè adesso giro canale mi guardo un filmettino cioè ero così talmente proprio uso il termine disturbato mi dava fastidio perché ritenevo inammissibile che si potesse interpretare una gara indipendentemente dall'avversario che poi abbiamo avuto peraltro non la controprova abbiamo avuto la conferma con il Sassuolo di una di una Juventus veramente non so dire se involuta con un atteggiamento non so mi sono passati tanti pensieri eh ho pensato anche che la Juventus non stia attraversando un buon movimento eh atletico fisico perché ho visto giocatori camminare in campo chiederò anche a entrambi vedendo le slide se la componente fisica sulla quale abbiamo tanto argomentato nei mesi per esempio autunnali invernali c'è stato anche proprio apertamente anche una diatriba che era stata anche mai smentita dalla società che riguardava questa parte poi ce la siamo un po' dimenticata giustamente abbiamo visto una Juve normalizzarsi eh anche in questo fattore vediamo intanto dico bene o dico male così vediamo subito se se allora per gli approfondimenti calciopoli report le parole di John Elkan le questioni del diciannove aprile domani collegio garanzia del coni dalle quattordici poi affrontiamo tutto e abbiamo tanti ospiti quindi eh vi do appuntamento a non staccare eh no stop oggi la domanda è questa del blocco di queste sei partite parto da Lazio Juve ok e arrivo a eh eh Sporting Juve ah scusa arrivo a Inter Juve sei sette questa era la meno importante Francesco e può aver inciso parto cercando un un appiglio e anche se abbiamo visto un Allegri molto deluso nel dopo partita e sinceramente deluso sinceramente deluso ma non si può non essere delusi sicuramente vedendo la 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 categoria qualità degli avversari che stiamo affrontando quella col sassuolo è sicuramente una partita non dico meno importante meno impegnativa proprio dal dal punto di vista della squadra avversaria e il mister parlava di ehm calo fisico secondo me dopo la sosta quindi dopo la vittoria contro l'Inter c'è stata la sosta eh la Juve eh ha dimostrato un certo calo fisico e in queste ultime partite io sto notando anche un calo dal punto di vista mentale cioè una specie di eh flessione nelle come dire non non vorrei dire nelle motivazioni ma nella nell'intensità ma mentale cioè ho visto un po' di pigrizia un po' di che può essere legata un po' anche alla stanchezza però insomma non ho visto una Juve brillante secondo me siamo in calo sotto tutti e due i punti di vista e consideriamo che noi abbiamo giocato giovedì con lo Sporting ma domenica e infatti domenica Allegri ha cambiato solo due giocatori perché alla fine hanno giocato Barbieri e Paredes eh di diverso perché poi Milik e Vlaovic comunque avevano giocato i giovedì quindi insomma eh la squadra secondo me è un po' sotto pressione e sta subendo questo la stanchezza mentale di queste tante partite importanti una dietro l'altra ma io ho notato le espressioni dei giocatori eh li ho guardati un po' per quanto possibile in tv insomma cioè l'espressione anche degli occhi cioè traspare poco entusiasmo cioè poco poco credo calcistico sì sarà un problema anche fisico ma questo mi preoccupa questo secondo mi preoccupa molto di più e non vorrei mai che la Juventus eh che i giocatori stessero mollando un po' dal punto di vista mentale sul più bello perché devi mollare sul più bello ho detto non vorrei io mi aspetterei a questo punto una grande reazione sono preoccupato per la gara di giovedì però eh allo stesso tempo voglio pensare che la Juventus questa volta la squadra trovino la forza attenzione perché in passato dalla dalla testa in passato è successo di prendere di subire cocenti delusioni e quelle in Champions è inutile che le ripasso nelle gare di ritorno eccetera però è anche vero che con Allegri in particolare la Juventus è stata capace di qua e là a macchia di Leopardo di segnare dei momenti storici e partite storiche storiche in momenti in cui noi per primi magari eravamo spaventati o comunque non così fiduciosi rispetto a a metterci dieci centesimi sulla super partita serve qualcosa di simile a una super partita giovedì perché conosciamo l'atteggiamento dell'avversario il fatto che è sicuramente convinto di poter passare il turno vorrà sfruttare le intensità e le cose che che li ha convinti che possono metterci in difficoltà ovvero quelle viste nella gara di andata quindi sarà una gara complicatissima detto questo tante considerazioni interessanti dalla community magari prima di partire con le slide veloce la Juve con lo Sporting ha preso atto che non sa secondo Boy Without Brain dunque non può giocare propositivamente riferendosi all'assetto iniziale che aveva scelto Allegri e che non aveva pagato andando poi addirittura a fare un correttivo al contrario questo è deprimente nella testa dei calciatori prima considerazione seconda la prendo da Corrasacco uno risponde Zenzo dall'alto Zafforli scegliete voi giovedì lo fareste giocare questo Vlaovic una testa scegli tu Orfeo a chi vuoi rispondere su Vlaovic o sul o sul fatto che i giocatori sanno di non poter far partite ehm alla rembaggio no io farei partire comunque in ogni caso anche se sta attraversando un periodo eh indefinibile quello di Vlaovic lo farei partire comunque mi aspetto sempre che da un momento all'altro possa essere il giocatore anche perché no decisivo non solo giocare a un livello a un livello superiore però essere decisivo noi abbiamo bisogno di Vlaovic abbiamo bisogno di questo giocatore forse lo dobbiamo aspettare non lo so io senza dubbio ho dimostrato apertamente tante perplessità dal punto di vista anche tecnico del giocatore però cioè nonostante comunque un po' ci credo ancora non l'ho mollato del tutto perché è vero probabilmente il gioco non gli è con un gruono non gli è con un geniale a certe caratteristiche però per rimanere all'interno di questo di queste caratteristiche devo dire che mi ha lasciato un po' un po' sorpreso quindi partiresti comunque con Vlaovic assolutamente Zenzola rispetto invece a ciò che scriveva eh Boy Without Brain io penso che i giocatori debbano avere nella testa la partita contro l'Inter punto cioè è quella la partita che deve essere fatta quella che deve essere la partita di riferimento contro l'Inter intendo a San Siro eh non quella di Coppa Italia. Inter Juve 0-1. Esatto perché la Juve lì si è difesa ha fatto il solito gioco compatta dentro la propria metà campo però ha sempre dato l'impressione di poter ripartire quando ripartire fare male e ripartire anche in tanti giocatori quindi una squadra anche bella brillante convinta di quello che andava a fare e quindi io mi aspetto che adesso che arrivano tre partite importantissime perché arriva lo Sporting il Napoli e poi l'Inter eh la Juve ritrovi questo questo piglio ecco eh spero che la la parere domenica sia stato proprio uno dei tanti bassi che abbiamo trovato punti bassi che abbiamo trovato quest'anno ma che servano poi per per darci slancio perché altrimenti veramente vuol dire buttar via tutto. E allora diamoci slancio con le slide abbiamo insomma un bel tre quarti d'ora prima di accogliere poi gli amici per gli approfondimenti eh che vanno dal campo ma anche su tutto il resto. Vai Zell. Allora io parto subito da un'azione nostra che non è neanche tanto brutta al sesto minuto. Questa che categoria è scusa? Perché siamo come. No questa è un'introduzione. Perfetto. Allora questa è un'anteprima diciamo che qui al sesto minuto c'è una musichetta. Ci vorrebbe una musichetta. Esatto dove Paredes prende palla a ridosso dei difensori centrali la gioca su mili che corre per andare a ricevere lo scarico però sbaglierà il lancio lungo. Qui ci sarà Vlaovic che attacca lo spazio e e Paredes gli sbaglierà il lancio. Eh con un lancio fatto in maniera precisa Vlaovic sarebbe andato in porta. Questo ci faceva pensare che forse avremmo potuto vedere una partita diversa. Ecco invece poi dopo cosa è successo? Abbiamo rivisto sempre il discorso dei lanci lunghi. Ma perché lo devi dire col nodo in gola? Eh lo dico col nodo in gola perché sai che mi hai toccato eh mi hai toccato. Perché io questa cosa dei lanci lunghi non riesco a mandarla giù. Ma si vede. E poi ho messo da parte anche qualche slide del Sassuolo e vediamo vedremo la differenza. Allora partiamo eh primo lancio lungo. Qui vedete Bremer effettivamente è pressato ok però qui Bremer è lui che va a infilarsi in questo corridoio quando avrebbe potuto tranquillamente giocare su Perin e girare su Gatti. Invece va a sinistra si inserisce in un corridoio dove tutti vengono marcati e sparerà questo pallone lungo che andrà a finire alla difesa avversaria. Quindi non riusciremo a prenderla. Vediamo quest'altra situazione sempre Bremer. Però lì è pressato Danilo gli va a pestare i piedi senza smarcarsi perché vedi che c'è frattese il raddoppio e anche Kostic cammina. Cioè nel senso che non fa un movimento per dire invitandolo dentro un campo a un servizio. Cioè qui Bremer non può fare altro. Qui non può fare altro ma è lui che si mette in questa situazione perché Perin gli gioca la palla nel riquadro che vedete sotto di lui il riquadro del taglio dell'erba ma invece di giocare di nuovo su Perin visto che di là erano tutti marcati va a infilarsi perché sbaglia uno stop sbaglia il controllo e quindi va a infilarsi in quella situazione lì. Però poi vi farò vedere un'azione del Sassuolo in cui in una situazione del genere esce col fraseggio. Invece noi non ci proviamo neanche perché come dicevi tu sono tutti fermi nessuno si propone. E vi faccio vedere la seconda quella che vi stavo facendo vedere. Qui Perin gioca su Bremer. Vedete non ci pensa due volte. Guardate Danilo che sta correndo incontro. Paredes sempre camminando. Qui siamo a quattro no? Sì esatto. Danilo si alzava molto e sono i primi minuti della partita in cui anche a difendere la Juve difendeva con un 4-4-2 perché Costi ci rimaneva piuttosto alto. Però vedete qui questo lancio è inutile. È assolutamente inutile. E poi è anche alla cieca. Alla cieca. Infatti lo prenderà la difesa del Sassuolo. Guardate questa situazione. Gatti gioca su Barbieri. Barbieri la restituisce indietro. Gatti lancio lungo per la difesa avversaria. Vedete Paredes sempre con questo passo felpato che ha comunque il corridoio per andare ad aiutare il compagno. Gatti lo può anche vedere volendo. Lo può anche vedere. Però Gatti sa che ha un raddoppio perché tra l'altro alle spalle è anche un giocatore pericoloso qua se non ti raccordi. Cioè non lo so. C'è sempre una situazione di allerta nella testa dei nostri giocatori. Sì sì. È una paura di giocare e quindi si butta sempre su. Guardiamo questa situazione. Guardate Perin. Cioè Perin qui ha Bremer di fianco a lui. Ha l'uscita laterale su Gatti che si è allargato e stanno scendendo centralmente Paredes e Fagioli. E lui cosa farà? Lancerà lungo su Blauvic. Palla lunga presa dalla difesa avversaria. Ma perché dici tu? E perché dico io. Guardate anche qua Danilo ma a turno tutti. A turno tutti. Guardate qua Danilo ha tutta la difesa schierata per poter girare palla su un pressing del Sassuolo che non mi sembra così aggressivo e invece lancerà lungo e la palla finirà ancora alla difesa. E qui noi non ne sfrutteremo uno di questi lanci lunghi. Neanche come seconda palla. Ve lo dico. Zero. Guardate qui sempre Perin. Tutti fermi. Tutti fermi. E cosa fa? Qui ha anche l'uscita lunga laterale su Barbieri e invece farà il lancio lungo. Sto per finire perché è veramente una tragedia. Questa è la categoria. Come l'hai denominata questa categoria? Questa è la categoria non voler costruire. La scelta comoda. Il lancio lungo. Comoda? Quando io consegno la palla all'avversario dopo quattro secondi che la ho io non mi sembra una situazione così comoda. No non è comoda. È vero che difendere è bello però. Guardate questa. La Juve riconquista palla. Pagioli questa a me guardate io che faccio le slide per tutte le partite rivedere delle cose che avevo delle slide che avevo già fatto con altri avversari tipo col Monza in casa con Fagioli che conquista palla e allarga le braccia perché non sa chi darla con tutto il resto della squadra dietro le proprie spalle e solo le due punte tra l'altro marcate davanti a sé decide di fare un lancio lungo. Qui Blauvic si produrrà in uno scatto ma non arriverà perché lancio lungo è sbagliato. Ci spieghi perché hai circolettato proprio quei 4 5 lì? Per la postura guardate sono tutti fermi. Questa è la mia categoria è la categoria posture la categoria postura tutti fermi e poi l'ultima sui lanci lunghi sempre Perin che ha la possibilità di giocare qui guardate che Danilo che ho cerchiato qua in mezzo fa il movimento per andare verso il centro giusto per andare a costruire guardate Bremer qui a destra che alza le braccia come per dire giocala penso penso di interpretare in questo senso. Si chiama la palla qui. Esatto invece Perin farà il lancio lungo come al solito finirà alla difesa avversaria. Ecco questa è la prima parte che io ho isolato. Vi dico che in 50 minuti noi abbiamo fatto otto lanci lunghi contro i due del sassuolo cioè otto lanci lunghi io questi li ho fermati tutti eh. Cioè tu parli di lanci fondamentalmente di questi otto nove quelli che sono più della metà li fa il portiere. Li fa il portiere li fanno i difensori centrali e soprattutto lanci non costretti cioè non siamo costretti al lancio dal pressing del sassuolo ma 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 lo facciamo così per non giocare la palla non la giochiamo la buttiamo su. C'è un però secondo me Francesco perché nella prima parte della gara eh a mio avviso Perin ha provato tanto a costruire dal basso però davvero ad un certo punto si portava i difensori cioè gli scusate gli attaccanti del sassuolo quasi nell'area piccola a fare pressione perché non c'erano nella fase di costruzione dal basso non c'erano vie d'uscita cioè non solo mister finisco noi questi giro queste circolazioni dietro ma che velocità la palla? Allora sono lentissime tutte in orizzontale mai palla sopra mai palla sotto è vero Francesco tu dicevi il pressing del 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 sassuolo non era così a uomo così pressante manteneva comunque una certa distanza era comunque un pressing di posizione il vedere per il primo il primo quarto d'ora i primi venti minuti questa circolazione così lenta ha messo una sorta di insicurezza di incertezza da parte di Perin che non vedeva eh dai compagni nessun'altra soluzione aggiungo aggiungo un'altra cosa secondo me eh detta poi dal teletronista ma lo hai detto anche tu eh se non se non sbaglio Luca in in diretta tv eh Allegri dice a Milik Paredes quando è marcato quando veramente non ha la possibilità di fare la giocata quando la va a prendere perché pressato perché marcato vai tu a prendere palla che è stato secondo me una cosa di un di un di un dannoso incredibile ne abbiamo portato un altro che non faceva movimento che e che poi veniva pressato anche lì per cui non c'erano mai mai soluzioni anche quella palla lunga che tu provavi a mettere era una palla persa era un boomerang era un boomerang su quella palla lunga non avevi mai per esempio Milik e Vlaovic vicini per cui tu dici trovo uno dei due o la seconda palla mi manda se Milik scende di trenta metri motivo in più per non lanciare queste palle che ci hai fatto vedere tu eh Zenzula. Sì ma allora il mister ha fatto bene a sottolineare questa cosa perché anch'io l'ho notata durante la partita il fatto che Allegri chiamasse Milik a costruire ma vi sembra corretto che si debba abbassare una punta per fare questo tipo di lavoro ma le rotazioni a centrocampo un difensore centrali ne abbiamo tre cioè il far ruotare Paredes è marcato lo fai spostare verso la fascia e si abbassa Fagioni cioè o Rabiot cioè le rotazioni servono proprio per quello. Lo fanno anche altre squadre senza volerle ricordare ma una cosa talmente naturale e ovvia cioè io porto via sono Paredes faccio dieci metri mi porto via il mio il mio marcatore in quel momento lì e faccio una rotazione faccio passare uno qualsiasi dei dei due centrocampisti. La rotazione è classica ma è uno strumento secondo me molto molto utile insomma ma poi anche cioè anche la palla lunga qualche volta di solito lo fa lo fa perché eh Costi ce lo fa cioè fa un movimento cortolungo viene a prenderla poi scappa via ma neanche quello sono tutte quelle palle là in fondo su Vlaovic che purtroppo ahimè non sempre ha il primo controllo preciso quando ha spazio che riesce anche a prendere tempo sull'avversario prendere spazio anche se sbaglia il primo controllo poi lo recupera in qualche modo ti dà una mano ma se è raddoppiato marcato spalla la porta anche se porta un movimento fuori lungo va in diagonale così o in orizzontale se sbaglia il primo controllo è fatta e fa la persa. Ma mister ma io tra l'altro non è che dico il lancio lungo non serva perché quando hai una squadra come dicevi tu che ci pressano alti vengono a proprio al limite dell'area e tu salti la linea di pressing con una palla lunga però cosa succede in questa situazione quando tutta la squadra deve sapere che quando la palla arriva al portiere e sta facendo sta facendo praticamente sta adottando l'uscita lunga tutta la squadra deve salire perché nel momento in cui la palla arriva alla punta la seconda palla la prendi tu perché hai tutta la squadra che sale e ti lasci dietro i giocatori avversari invece i nostri giocatori rimangono fermi la palla arriva a Vlaovic non c'è mai nessuno a prendere la seconda palla cioè sono tutte palle che finiscono alla difesa avversaria ma mai un elastico difensivo francesco cioè cioè quando porti su palla che si salga quei cinque sei metri rapidamente in modo intelligente con la con la linea con l'ultima linea con i centrocampisti in modo tale da non prenderci poi un contro fuorigioco però bisogna salire invece una squadra completamente completamente ferma cioè anche se la lunga la palla poi non sale rimane lì e aspetta e quindi sei sempre punto e a capo non riesci mai a guadagnare quei 50 metri di campo che sono le distanze spesso che vediamo tra addirittura anche tra i centrocampisti e Vlaovic e Milik quando gioca là davanti quindi è impensabile poter far gioco così è impensabile tra l'altro mister tu hai detto siamo tutti fermi io ho isolato la categoria tutti fermi che è una no la categoria tutti fermi è bellissima io pensavo fosse inclusa in quella precedente no no c'è proprio una cosa un gruppo di slide specifiche della della categoria tutti fermi c'è anche la categoria poi assalto finale come c'è la categoria passaggi indietro passaggi indietro quelli quelli in diretta li ho sottolineati molto adesso ti faccio intanto ti faccio vedere la tutti fermi allora rispondo solo a Martinelli 21 ovviamente il nostro appuntamento approfondimento dibattito e argomenti eh diciamo anche 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 di ampio respiro che riguardano la politica la giustizia ma andiamo poi anche sulla Juve di giovedì in maniera battagliera dalle quattordici eh lo sapete prego mister allora guardiamo qua eh palla a fagioli siamo nella metà campo offensiva ok quindi stiamo attaccando eh riceve palla a fagioli qui l'unico che attacca la fascia tra l'altro marcato e barbieri guardate le due punte che nessuno fa il movimento per andare ad attaccare uno spazio o comunque insieme per attaccare quello spazio secondo voi fagioli cosa farà in questa situazione tornerà indietro guardate paredes che ha la possibilità di andare incontro a fagioli per dargli una soluzione di passaggio centrale fermo in mezzo al campo ok questa è la prima poi abbiamo questa situazione ecco questa slide eh chiedo a voi secondo voi è un'azione in movimento o è una punizione no no per quello che abbiamo visto è un'azione in movimento questa è un'azione in movimento questo è paredes che porta su palla camminando camminando guardate i propri compagni bremer me la ricordo me la ricordo questa tutti fermi cioè camminando paredes cosa fa gioca la palla su gatti gli viene restituita la palla si abbassa barbieri per dargli una soluzione di passaggio e poi vedete gliela restituisce questa è subito dopo eh perché se vedete il minutaggio è quello e paredes ovviamente poi si tira dietro tutti i giocatori del sassuolo e la soluzione del lancio lungo ce n'è un'altra guardate questa Danilo a palla guardate i giocatori cioè camminano stanno camminando cioè questo è la fase di costruzione della Juventus eh nel primo tempo contro il sassuolo a camminare è stata la fase più bassa della della partita in quel momento lì me lo ricordo Allegri l'ha detto eh allora onestà per onestà Allegri microfoni terza frase è primo tempo siamo stati fermi quindi la categoria tutti fermi è una categoria chiarissima e spiacevole anche agli occhi del mister eh diciamocelo eh almeno lui l'ha detto così ma un mister che in panchina vede la squadra così non può essere non può rimanere indifferente no no assolutamente se li deve mangiare uno poi deve dare anche istruzioni perché può capitare che in una partita ce ne siano uno due un po fermi rispetto gli altri ma qui tutti fermi evidentemente c'è anche un adattamento di tipo psicologico generale di tutta la squadra di tutto il gruppo eh forse è mancata anche un po di personalità ecco quando io magari accuso spesso rabbio da rabbio vorrei molto di più prenditi la squadra sulle spalle hai l'esperienza eh prenditi la leadership guida il gruppo comanda dai una mano invece anche lui si adegua a quello che è l'andamento generale questo questo è davvero sì allora devo dire che a tratti quest'anno rabbio l'ha fatta questa cosa alla sua maniera alla sua maniera perché non è chiaramente né un leader tecnico né un leader carismatico però l'ha fatta io devo dire che rabbio secondo me è già un mesetto che eh stranamente devo dire non aveva pagato granché la fatica nel mondiale mh subito è andato bene adesso mi sembra che la sua stagione lui ha fatto tanti minuti tante gare mi sembra quello ecco sul lato fisico mi sembra quello che è calato rispetto a rabbio che fisicamente invece è sempre stato tirato a lucido eh fino a ripeto qualche settimana fa questa cosa su di lui mi sento di sottolinearla eh e l'avrei detta anche prima dell'inizio di questa partita perché l'avevo già notato persino anche con lo trovo sporting dove sicuramente c'era tutto l'interesse a a far bene aver visibilità a far la partita giusta come l'avranno giovedì però lui mi sembra un po pagare in questa fase spero proprio giovedì giovedì di essere di venire sventito perché lui giovedì è un giocatore che dato che dovremmo giocare verticale e uscire palla al piede un po' di volte sarà importante dritto per dritto eh perché poi è quello che 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 lui fa meglio a me ha sorpreso anche il negativo anche Kostic ecco Kostic veramente col sassuolo l'ho visto male 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 non ha mai non ha mai fatto non ha mai lavorato proprio sulla sulla fascia come abitualmente eh lo vediamo fare male non lo so tutto segnale prossima categoria allora dopo lancio lungo tutti fermi secondo me arriviamo al clou che è il passaggio indietro perché il clou cioè quindi il clou del primo tempo sono i passaggi indietro e vi faccio vedere perché poi ho fatto anche non anticipo nulla allora vediamo la prima Bremer gioca su Milik guardate Milik che stoppa la palla di sinistro ha la possibilità di girarsi verso i compagni perché proprio mamma mia cinque giocatori sopra palla eh avete visto Kostic attacca ma rabbio attacca e guardate anche Vlaovic e Fagioli sono sulla linea di della difesa eh del sassuolo qui Milik molto semplicemente perché non è pressato vedete il giocatore è penso sia a due metri due e tre e mezzo lui eh potrebbe girarsi e far partire l'azione invece cosa fa gioca la palla indietro a Bremer incredibile questa è incredibile allora ho cerchiato anche il minuto minuto 17 e 48 Milik riceve palla fa una giravolta e torna indietro guardate due secondi prima 17 e 46 questa è la situazione Milik attacca e guardate c'è Vlaovic che sta attaccando quello spazio e Fagioli che si sta buttando dentro e Barbieri che è un po' più arretrato ma comunque a gamba sulla corsa ci può arrivare quindi vedete lui ha questa situazione qua davanti a sé e invece fa questo gira volta e torna indietro poi qui qui non vorrei sbagliarmi potrei eh ma è una situazione se non è questa è molto simile Vlaovic si infuria e sbraccia nei confronti del compagno e credo che sia questo perché nei primi venti minuti lo fa due volte tra l'altro situazione o comunque che io non apprezzo perché tu sei concentrato in partita eccetera però Vlaovic qua si arrabbia si arrabbia per la gestione della palla per non perché la voleva magari lui però c'era lo spazio per andare probabilmente a mettere in difficoltà la difesa anche andando banalmente sull'esterno però insomma ricordo chiaramente questa situazione poi abbiamo questa situazione dove Fagioli riceve palla e vedete ancora Vlaovic che fa il movimento ad attaccare la profondità questa è la seconda volta che si è arrabbiato infatti vedete anche eh Milic centrale che che va quindi c'è una una linea di passaggio lì c'è Barbieri sulla fascia sempre e Fagioli tornerà indietro e giocherà la palla anzi no eh sì no è Paredes quello dietro quindi giocherà la palla su ma secondo te perché questo set ripetuto di situazioni che sembrano paradossali ma evidentemente sono frutto anche di un pensiero che la squadra aveva in testa cioè di cosa di abbassare i ritmi secondo me sì di tenere il pallone di far sfogare il sassuolo e poi magari nel secondo tempo con i cambi di dare uno sprint in più perché non si comprende questa cosa Vlaovic nel primo tempo ha fatto comunque questo movimento una decina di volte non è mai stato servito confermi mister sì no dieci volte magari dieci volte magari no però comunque l'ha fatto diverse volte ma anche nel secondo tempo l'ha fatto ma in una di queste occasioni si è arrabbiato anche Allegri eh cioè ma anche in maniera vistosa si è visto cioè che ad un certo punto si è girato un paio di volte verso i suoi collaboratori sul staff dicendo ma possiamo giocare palla avanti perché giocare sempre palla indietro per cui voglio dire se ne è accorto anche lui però doveva anche intervenire in maniera un po' più energica tanti poi non trovando la soluzione perché troppo fermi perché poco accompagnati è sempre quella palla lunga su Vlaovic punto che mica ha detto che spalla la porta e lui riesca a trovare sempre la soluzione che comunque rimane una soluzione personale perché poi non è mai accompagnato guardate che c'è stata un'occasione adesso non so se tu hai la slide di quelle poche volte che abbiamo attaccato con un numero sufficiente di giocatori per rendersi disponibili poi abbiamo perso palla sono ripartiti ci siamo trovati in una situazione di cinque contro due quattro cinque contro tre cinque contro tre non ho la slide però però ce l'hai ce l'hai memorizzata bene ma è stata una roba si è allargato a sinistra e non è riuscito più ad andare dentro da proprio il senso di come eravamo impreparati in quel momento lì abbiamo provato a salire ma l'abbiamo fatto senza raziocinio io voglio un attimo appoggiarmi a questo messaggio di acciaio e lo spartito perché voglio andare su questa cosa dicendo una cosa e lo spartito si tiene botta fino al settantesimo per poi cercare di risolverla coi cambi lo spartito vuol dire una cosa che attraversa più partite a meno che non intendesse acciaio il piano partita di reggio emilia che sicuramente era qualcosa di simile perché lo ha ammesso allegri a fine gara ma se più in generale questo fosse lo spartito beh è difficile andare da giocare cioè io non riesco a capire come si faccia andare infatti io non ci credo che possa essere una costante che allegri chiede e come fai andare ai giocatori a dire ragazzi il nostro obiettivo è per un'ora circa anche un po' di più non è un problema e non far succedere nulla né ovviamente per noi o meglio non corriamo eccessivi rischi ma l'obiettivo è non far non far succedere nulla per gli avversari cioè come si fa a pensare che questa cosa possa essere detta e accolta dai calciatori ci sta su una partita specifica particolare per motivi perché poi ma non penso possa essere lo spartito della juve anche se abbiamo un po' il dubbio che lo sia vedendo tante partite insieme io non penso che tu possa andare a dire ragazzi l'obiettivo è per un'ora non far succedere nulla cioè non è non è credibile anche se a noi arriva così eh arriva così poi guardando le partite zenzio sì ma tra l'altro io dico ma è possibile che la juventus cioè che il sassuolo abbia giocato così bene da impedirci guarda che primo tempo sassuolo non ha giocato benissimo appunto dico ha giocato così bene da impedirci di fare un tiro in porta nello specchio della porta cioè noi abbiamo fatto il primo tiro nello specchio della porta al sessantesimo con danilo cioè il sassuolo non ha fatto questa grande prestazione che dice oh ci hanno bloccato ci hanno pressato non ha fatto niente eppure noi abbiamo fatto meno del sassuolo molto meno del sassuolo quindi c'era proprio un'intenzione di non andare a pungere di gestire il pallone infatti il possesso era superiore quello della juventus nel primo tempo ma un possesso sterile per tenere la palla io non so con che obiettivo ho immaginato io eh siamo un po stanchi eh abbiamo giocato in coppa gestiamo la palla poi nel secondo tempo facciamo entrare chiese di maria e vediamo di risolverla cioè questa è penso sia cioè quello che io ho immaginato però non lo so io non riesco a immaginarmi con lo sport in quale quale potrà essere lo spartito cioè la strategia di gara mi aspetto una reazione della juventus però ci penso e dico ma se a lisbona voglio partire proprio con il piede sull'acceleratore a mille voglio fare un quarto d'ora a mille poi però penso ma gli altri 80 minuti se sono veramente in condizioni eh atletiche discutibili un po down e gli altri come li faccio quindi davvero è è difficile anche pensare che tipo di strategia di gara di inizio gara di 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 tattica iniziale si possa si possa adottare e mettere in campo perché loro vorranno fare la partita e partiranno a mille anche loro ma noi vorremmo fare anche noi per reazione una partita secondo me si potrebbe anche stare come logica però è anche vero che bisognerebbe essere usare un briciolino più di testa cioè non farci prendere adesso dalla reazione di voler far vedere che se siamo capaci anche di fare altre cose e partire subito a mille a gradire l'avversario e tenere una sua metà se ti riesce fai i gol e allora puoi anche avere ragione se non ti va bene dopo gli altri 70 minuti perché non so quanta autonomia tu possa avere giocando veramente col piede sull'acceleratore cosa che abbiamo visto raramente e poi è durato non è neanche nella vocazione di questa squadra per cui è sempre durato costruita e cesellata in questi mesi anzi dico un'altra cosa quindi dico una cosa banale tutto ciò che abbiamo visto fin qui zenzola e ciò che non va fatto giovedì non va fatto esattamente esattamente e vi dico di più proprio per farvi capire che a volte poi ci si abitua a certe cose ma queste non sono le cose giuste io vi voglio far vedere alcune azioni del sassuolo del primo tempo il sassuolo una squadra tecnicamente normale infatti non sempre allora ti dico che con berardi chiudevamo sotto prima anche nella gestione delle ripartenze del sassuolo è sempre l'uomo chiave sempre si appoggiano lì e poi lui riesce veramente a fare la differenza quando lo vediamo spesso anche contro le big se si sbaglia partita col sassuolo paghi dazio proprio su quelle situazioni loro ti continuano a ripetere un quattro contro 33 contro due e berardi è il primo uomo cui appoggiano queste situazioni le gestiscono molto bene ripartenze è vero e tra l'altro vi invito adesso a vedere a osservare la postura del corpo di maxin lopez e metterla a confronto con quella di paredes che abbiamo visto prima allora ve le vi faccio proprio la carrellata guardate qua frattesi attacca la difesa centrale quindi i due centrali danilo e bremer vedete qui non si vede perché fuori campo ma c'è un giocatore largo quindi vedete tutti i movimenti per liberare sul lato opposto sul lato debole un giocatore qui il centrocampista del sassuolo sbaglierà il passaggio verrà intercettato da vlaovic con un po più di qualità avrebbe pescato un giocatore solo davanti al portiere guardate questa situazione palla all'esterno basso gioco sulla punta gioco una palla raso terra sulla punta che viene incontro e la punta di prima allarga sull'esterno alto questa è un'azione tipica del 433 non c'è da fare lanci lunghi c'è da giocare con la punta raso terra ok guardate maxin lopez qui esterno basso viene incontro si gira e apre gioco dall'altra parte vedete come corre la postura del corpo è di un giocatore che sta correndo che va incontro al compagno che gli dà una soluzione non sta camminando guardate questa situazione esterno alto con la palla esterno basso sovrapposizione mezzala si inserisce nel buco ok qui arriveranno al cross frattesi tirerà sull'esterno della rete altra azione vedete sempre esterno basso palla a mezzala che gli restituisce la palla dentro lo spazio vedete come l'esterno alto è dentro il campo proprio per tenere impegnato il centrale e qui arriveranno al cross calcio d'angolo per il per il sassuolo sempre maxin lopez quando vi dicevo prima che noi avevamo la pressione del sassuolo quindi non sapendo cosa fare lanciavamo lungo qui consigli passa la palla maxin lopez in mezzo a tre giocatori della juve e maxin lopez giocherà questa palla nello spazio centrale dove si inserisce frattesi e ci attaccherà dritto per dritto saltando il pressing fatto male comunque di tre giocatori della juve ultima slide questa sovrapposizione col terzo uomo l'esterno basso lancia passa la palla all'esterno alto che la scarica sul centro su lopez e va in sovrapposizione e lopez va a servirlo nello spazio che si crea queste sono azioni semplici sono azioni classiche classiche di un 4-3-3 normale ecco ditemi voi anche quando noi ultimamente ci siamo messi col 4-3-3 contro la lazio nel finale di partita e contro il sassuolo nel finale di partita quante volte abbiamo visto cose di questo tipo mai mai e questo vuol dire che da una parte c'è un lavoro sulle azioni offensive sulle combinazioni offensive dall'altra parte magari c'è un lavoro ma è un po mischiato anche all'improvvisazione e al come dire alle capacità tecniche individuali dei grandi campioni che abbiamo prima hai sottolineato consigli che gioca con la palla frattesi in mezzo a tre dei nostri giocatori eccola lì bellissima ti dà l'idea che consigli gli da palla perché ha la sicurezza la certezza che poi sicuramente a frattesi ha delle soluzioni di gioco lopez esatto ha delle a delle soluzioni di gioco perché perché il movimento del compagno è abbastanza chiaro si sta proponendo sta cercando dello spazio comunque per ricevere palla o per portare via quello che lo sta osservando che non so chi sia non me lo ricordo chi è comunque il più vicino dei nostri per in questo non lo poteva fare ci ha provato sempre per tornare al primo tempo disastroso che abbiamo visto e lui non si è fidato più ad un certo punto e trovato solo quella soluzione di bruttissima altrettanto io devo dire che il nostro centrocampista centrale a turno chi possa essere che va in situazione di lopez quella palla non la vuole non la vuole quella palla non la vuole due cose veloci è la settimana più importante degli ultimi due anni secondo me sì per sapete tutto ciò che accade da domani fino a inter juve io la sento così la vivo così poi abbiamo vissuto anche delle settimane importanti assolutamente siete d'accordo voi sì 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 molto decisiva ma ci metto dentro anche la coppa italia io sì fino fino a inter juve fino a inter juve assolutamente fino a inter juve l'altra cosa che volevo andare a ripescare sempre suggerita eh dalla dalla community riguardava il discorso del 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 me lo sono perso niente andiamo avanti con le con le slice meglio ah no era scusa era sì 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 era su frattesi molto chiacchierato anche in chiave juve poi adesso carnevali dice no non ne ho parlato sì però ho già fissato il prezzo mi hanno offerto 40 dalla premio tutto il circo su frattesi che fa gioco ovviamente al sassuolo non so se la juventus abbia in testa solo lui ma sicuramente è un osservato da tempo francesco calvo ha detto frattesi un giocatore forte e italiano e giocatori forti italiani li prendiamo in considerazione ma detto questo il frattesi di domenica impressioni da parte di entrambi a me è piaciuto ha corso tanto si è inserito bene senza palla è un giocatore che può crescere molto non so se valga 40 milioni però come come dicono ecco la juve serve se se va via rabbio che serve un altro centrocampista sì se c'è rabbio secondo me il centrocampo è a posto cioè questo centrocampo qui con locatelli rabbio e fagioli a me piace molto quando ci sono tutti e tre sono in condizioni secondo me è un bel centrocampo sono assolutamente d'accordo condivido tutta l'analisi di francesco ci serve un giocatore con quelle caratteristiche magari di struttura fisica magari un pelino più proprio hai fatto riferimento se perdiamo rabbio se perdiamo se non abbiamo più rabbio serve un giocatore anche che peraltro piacciono anche a massimiliano allegri c'è giocatori anche strutturati dal punto di vista fisico che che il contrasto non lo non lo patiscono certo comunque lui è un buon giocatore però a mio avviso servirebbe un giocatore sì con quelle caratteristiche ma magari con qualche centimetro più su transfermacht frattesi vale 22 milioni guardate qua il furbetto già stiuve che a breve a minuti verrà qui a trovarci già ovviamente viene così a a pizzicarci su questo tema ovviamente c'è rovella tra l'altro da lazio ha chiesto informazioni su rovella divento al momento non disponibile a rovella secondo me luca è un giocatore da 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 riprendere può essere una buona alternativa altre slide o possiamo usiamole usiamo secondo tempo il lavoro di zentola allora la juve nel secondo tempo riparte molto bassa vedete qua questo è il tiro di di maxin lopez che verrà parato da da perin e vedete come difendiamo tutti dentro l'area di rigore qui siamo al 54esimo ma vediamo situazione anche di questo tipo dove la juve è proprio schierata col solito 5 3 2 ma molto bassa cioè proprio nella propria tre quarti e il sassuolo incomincia a prendere campo ecco però diciamo che come dicevo prima all'inizio l'ingresso di di quadrado e di di maria qualcosa ci hanno dato dal punto di vista offensivo infatti vediamo questo è il primo tiro in porta della juve al 57esimo vedete quanti giocatori ci sono nell'area di rigore a ridosso dell'area di rigore quindi la juve incomincia ad alzare un pochino il baricentro qui siamo ancora solo 0 a 0 ok ci sono c'è un'altra ripartenza qua vedete di maria e quadrado molto attivo sulla fascia che spinge parecchio e gli farà questo filtrante dentro la cosa che vi faccio notare in questa situazione è sempre la posizione di blauvic che secondo me è sempre troppo lontano dal portatore della palla cioè dovrebbe cercare di stare più vicino per cercare di dare qui deve giocare sul centrale di sinistra sul centrale di calare lì andare attaccare lì in mezzo cioè nel momento in cui prendiamo palle risaliamo di maria lui deve cercare di avvicinarsi non di allontanarsi questo secondo me è quello che dovrebbe fare ecco qui abbiamo già subito il gol e siamo passati al 4 3 3 è entrato chiesa è entrato miretti sono usciti i costi a livello di prestazioni individuali vedete qui che questa è l'azione in cui blauvic sbaglierà il passaggio su rabbio qui anche sarà una riconquista a metà campo e il passaggio finale sbagliato secondo me è grave perché potevamo andare in porta rabbio ecco questa è una situazione che ho isolato ma che abbiamo visto tante volte anche con la lazio quando si è messa col 4 3 3 guardate come di maria riceve palla come deve fare un interno scusate un esterno alto a piedi invertito entra dentro il campo quadrado va ad attaccare l'ampiezza miretti viene incontro ma di maria cerca il lancio lungo su chiesa che è da tutt'altra parte e lo sbaglierà verrà preso da soluzione complicatissima soluzione complicata quando ci sono invece giocatori comunque che hanno fatto i movimenti giusti quindi ecco la lazio l'avevamo l'avevamo visto ma l'avevamo visto anche con lo sporting quando eravamo con 3 4 3 di maria cercava sempre chiesa largo con questo lancio da parte a parte secondo me non è un modo giusto per attaccare quando quando si è al tridente ecco allora io arriverei a una considerazione negli ultimi minuti io mi ricordo di quello che tu dici e francesco ogni volta e quindi arrivo alla domanda fatale giovedì giocheresti 3 5 1 1 sì decisamente con chiesa dalla panchina a strappare l'ultima mezz'ora sì io riproporrei il centrocampo a tre con locatelli fagioli e rabbio proprio perché loro hanno quei due trequartisti che si inseriscono sempre tra le linee avere lì le mezzali che interrompono la linea di passaggio verticale verso verso i trequartisti secondo me può metterli in difficoltà poi tu dici se c'è stato tanto lavoro sul 3 5 1 1 forse se dobbiamo raccogliere qualcosa lo raccogliamo così e cambiando poi eventualmente ritoccando la squadra l'ultima mezz'ora avendo chiesa piuttosto che milic piuttosto che altri magari piccole soluzioni non molte altre devo dire anche a centrocampo sono quelli è più o meno orfeo anche tu 3 5 1 1 giovedì sì assolutamente sì io credo che non 5 3 possa non giocare e noi con due con due mediani solo non siamo in grado di supportare così tanto lavoro che dovremmo supportare sì sì io andrei andrei così che a quanto pare insomma mi sembra la soluzione migliore quella che ha dato i migliori risultati in termini di compattezza di fase difensiva insomma magari riusciamo ad alzarci un po andare a giocare anche una metà campo avversaria così è quello sarebbe importante farlo cioè un po di pressing per costringerli a sbagliare nella costruzione all'andata l'abbiamo fatto poco e li abbiamo fatti sbagliare quando l'abbiamo fatto secondo me sarebbe una buona soluzione per cercare come avevo già detto prima dell'andata a togliere certezze nella costruzione perché loro sbagliano molto in costruzione se pressate è vero avevi un'ultima considerazione ancora da fare io volevo fare un'osservazione per ritornare al tema Vlaovic io ho notato che lui spesso quando si riparte non fa mai nulla per staccarsi dalla marcatura o decide di fare di scappare e di fare di fare un movimento fuori lì a qualsiasi però non fa mai quei movimenti davvero attaccanti cioè corto lungo che ti porto via un metro ti porto via del tempo se la ricevo mi giro e posso fare la giocata non gliela vedo mai fare questa cosa cioè lui rimane incollato all'avversario fermo situazione di uno contro uno spalla la porta poi vede il compagno che sale decide di partire e attacca uno spazio ma si capisce è talmente semplice non fa mai il movimento vado e poi scappo e quello secondo me per è un limite che deve migliorare e c'è un'altra cosa nei cross di Kostic non anticipa mai l'avversario mai è sempre dietro l'avversario è sempre dietro e per la stessa ragione e per la stessa ragione che non riesce mai a staccarsi dall'avversario ma rubagli il tempo fai un movimento non attacca palo non attacca palla bravo non attacca su questo diventa difficile Luca diventa difficile perché poi i palloni in area ne tocchi 3 4 a partita dove i dati oggi rispetto a osimen ne tocca 8 9 in area partita e poi anche come li tocchi e che palloni sono i nostri 3 4 magari valgono 2 e gli 8 di osimen valgono 6 o 7 cioè spesso possono essere palloni davvero molto molto golosi per un attaccante ottenuto in gran forma anche a livello psicofisico no anche quello fa la differenza allora tra poco ci prepariamo e scolliniamo in direzione ovviamente boom boom dietro le quinte report voglio tornare sulle parole di giornal canna e tanti altri temi in vista anche magari delle ultimissime per giovedì pogba veloce in dieci secondi percezione di poll una smorfia parvene tra le labbra cosa si può dire gioca dieci minuti quindi nessuna niente no dieci minuti per ora no per ora no speriamo che potrà aumentare il minutaggio di partita in partita perché ci può servire tanto come direi di non rischiarlo non rischiare lui per la sua integrità ma anche per il suo recupero dal punto di vista generale fisico tecnico e non rischiamolo nemmeno per la squadra non è il momento vabbè ho visto che non vi ha piano piano come diceva francesco diamogli un po' di fiducia non mi ha smosso nulla non mi ha smosso nulla grazie grazie a mister zenzola grazie a zanzolini ritroverete questa puntata poi vi faremo sapere bene come di nuovo sul nostro canale youtube view 20 voi cercatelo perché è tornato è tornato come prima da stasera anche più di prima grazie mister grazie a tutti coloro che seguono jb zona ma noi proseguiamo inizia il bello delle ore 14 allora io faccio che impostare il boom boom che sta per arrivare abbiamo i soliti tre minuti per caricarci con noi vedo 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 che iniziano ad affluire giugliani lo riaspettiamo intanto però just e con noi ciao luca ciao ciao tre minuti caricatevi e andiamo tra poco con tutti gli approfondimenti di giornata grazie ai nostri ciao ciao